Il grande nostro veterano dello sport, ma non solo, ricordo Silvio Bocchi che ha lasciato un segno nel nostro mondo sportivo, per chi non lo sapesse, ma qui vedo una grande tavolata di Urbisca e quindi, sì, mi diceva Tullio che sono più di 25, quindi oggi fanno più di una squadra, dicevo Silvio Bocchi è addirittura, è Tullio che può dare conferma, colui che ha inventato l'amatore, praticamente, a fondarlo. Ed era giusto quindi questa scelta, questa decisione. L'avvità di quest'anno, per ricordare Silvio Bocchi, storico segretario della sezione, è stato istituito un premio rivolto ad una giovane promessa del rugby. Il premio verrà consegnato a Tommaso Lanfranchi del rugby Parma, che ha visto in la Super Challenge Under 14, consegna Giulia Crema, che è l'ipote, e Carlo Bocchi, che è figlio di Silvio Bocchi. Abbiamo parlato che tu giochi al rugby, da quanto, e poi come mai hai scelto il rugby? Allora, io ho iniziato a giocare a sei anni, sì, e in Under 8. Ti ha spinto a giocare? Un amico mi diceva dai prova, prova che è una bella esperienza e ho provato. Tu giochi nell'Under 14, abbiamo sentito che hai fatto un grande risultato, sei il capitano? Sì, sono il capitano della squadra Rugby Parma del 14, e l'anno scorso abbiamo vinto il Super Challenge a Padova contro la Capitolina a Roma. Benissimo, ma di questo sei famoso come giocatore, come trequartista, cosa giochi? Se non sbaglio, che quarti ha? No, gioco dieci, al migliano di apertura. A me hanno fornito, perfetto, mi hanno dato una torta di colo, benissimo, e infatti... Ma bello così, mi pareci. Impariamo una cosa nuova. Però, una cosa che tutti i nostri amici sanno, tu porti un cognome importantissimo, sei parente di quel Lanfranchi che è stato la nostra più grande gloria, di rugby, al quale è stato intestato lo stadio. Sì, lo stadio a Parma. Sì. Sei parente? No, credo di no. Però, per voi, hanno un cognome importantissimo, portoci un cognome qui, e ti mi pagano. Va bene, passiamo alla consegna del premio da parte dei familiari. Grazie. Allora, io, per una vittura, perché sarebbe carino fare una foto con i ragazzi che hanno ricevuto i premi finora, i giovanissimi, quindi se possono raggiungerci qui sul palco, così si mettono a favore di telecamere e di fotografi, e i premiati finora saranno raccolti insieme in questo momento, così chiudiamo questa prima parte con i giovanissimi, che hanno ricevuto il premio ancora in questa edizione. E' arrivata anche l'ultima. E' arrivata anche l'ultima. Grazie. Grazie. Benvenuti a tutti. Vedete tornare, quindi, a posto. Grazie. 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 Grazie.